Questo video riguarda i migliori 3 asciugacapelli da parete. Il vincitore della qualità è il Bepper Asciugacapelli. Due diverse impostazioni di velocità e temperature, per la massima flessibilità di utilizzo in base all'acconciatura che vorrai creare. 2000 W di potenza e un motore di C a lunga durata ad alta velocità e la tecnologia di dissipazione uniforme del calore, produce un flusso d'aria forte e uniforme. L'asciugacapelli da parete Bepper grazie alle dimensioni è perfetto da installare in spazi ristretti per garantirti la comodità durante l'asciugatura. Il concentratore consente un flusso d'aria concentrato, rendendo i capelli lisci ed eleganti. Il concentratore è ideale per la messa in piega veloce e senza effetto crespo. Cavo a molla estendibile fino a 2 metri per asciugare i capelli in tutta comodità. Design compatto, adatto anche agli spazi più contenuti. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Mad Price Asciugacapelli. Asciugacapelli modello per alberghi, adatto sia per casa che per alberghi o anche per pensioni, hotel, residence. Molto comodo in quanto occupa il minimo ingombro in profondità e una volta posizionato nel bagno di casa o della vostra attività lavorativa non avrete più problemi o pericoli. Azionamento con pulsante a pressione Assorbimento Max 1200 W, dotato di due velocità di funzionamento e con interruttore on-off e presa di corrente integrata da 220V Fissaggio con base a muro Caratteristiche e specifiche tecniche Voltaggio 220V-240V Frequenza 50-60Hz Potenza 1300W-1800W Pulsante on-off Pulsante a pressione Tasto W2 Velocità Presa elettrica integrata per rasoi Il vincitore del premio è l'NA Supporto Fondamuro La nostra porta asciugacapelli da parete è realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, che ha una buona resistenza alla corrosione e al calore, impermeabile e resistente all'olio, non facile da arrugginire in ambiente umido, forte resistenza alla ruggine, molto adatto per l'uso in il bagno. L'anello interno della nostra porta asciugacapelli da parete è progettato con un anello in gomma smerigliata, che può evitare il contatto diretto della superficie tra la staffa di metallo e l'asciugacapelli ed evitare segni di attrito sull'asciugacapelli. Oltre a ricevere una porta asciugacapelli da parete, ti forniremo anche tre piccole viti per l'installazione. La posizione di installazione della staffa per asciugacapelli adotta il principio del triangolo, hai solo bisogno utilizzare tre viti fissare la staffa al muro con viti. Il nostro supporto per asciugacapelli da parete può risparmiare spazio nel cassetto per riporre l'asciugacapelli e mantenere la stanza in ordine. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.